La gestione delle cover in Virtual DJ Amici ma soprattutto amiche di SOS4DJ sono Claude Oggi andremo a vedere come sistemare ebbene le cover, le copertine in Virtual DJ 2021 Andiamo subito Eccoci qua con Virtual DJ 2021 La versione ormai che conoscete tutti perché ci abbiamo fatto un bel po' di tutorial Al riguardo soprattutto la real time stem separation ed anche gli stem effects Introdotti ultimamente che abbiamo visto in un tutorial recente Con un sacco di possibilità carine per separare l'effetto sulle varie frequenze della battuta Dello strumento o del vocale Ma oggi siamo qui a parlare di copertine cioè di come organizzare la nostra musica Si sa che la copertina per quel che riguarda il vinilo Per chi arriva da lavorare coi bauli, coi dischi Era un elemento fotografico molto molto importante e di riferimento Quindi la nostra memoria spulciando nei bauli si ricordava ed associava la foto In base al disco, alla traccia che andava suonata Adesso qua ce l'abbiamo la copertina però può capitare che non ce l'abbiamo Vediamo per esempio se carichiamo questa alla copertina Questa alla copertina lo vediamo qua Mentre questo non ce l'ha Come fare? E anzitutto dove vengono visualizzate le copertine? Come possiamo cambiarle? Come possiamo personalizzarle per mettere tutto in ordine? Andiamo a vedere per prima cosa dove trovare le copertine Dove le troviamo? Abbiamo tre possibilità La prima è qua Adesso la metto una con una foto così potrete riconoscerla La prima è qua sul lettore proprio accanto all'artista Alla versione della traccia E qua vedete abbiamo la copertina ufficiale Idem se carico una traccia di qua vedrete che l'avete dall'altra parte La seconda opzione dove possiamo vedere le copertine Che è quella più importante Quella dove possiamo spulciare Su questa configurazione che ho io Non viene visualizzata Io sono sulla configurazione pro Per cambiare le varie differenze c'è un tutorial che vi metto qua sopra Andiamo già sulla essential O sulla starter Vedrete che su questa barra qua Avremo la possibilità di avere le copertine Ed allargarle più o meno In modo da gestire come dicevo la memoria La nostra memoria fotografica Spulciando semplicemente Dentro la vostra playlist Per esempio se vado su questa Che ha parecchie tracce con le copertine È proprio come spulciare all'interno di un baule di dischi Vedete possiamo anche scorrere così Oppure semplicemente dentro la playlist E questo è molto utile Come vedete ci sono tracce con copertina E tracce senza copertina La terza possibilità è qua Nascosta dalle info Se allargate il campo info Vedrete che avremo tutte e tre le possibilità di copertina Adesso mettiamo copertina qua Copertina a destra E nella layout Nel layout essential La copertina andrà direttamente sul disco Cioè sullo slipmate Sulla versione starter pure Sulla versione pro invece Andrà direttamente nell'angolino Nella performance invece rimarrà solamente qua Come la pro Andiamo sulla essential E andiamo a cercarci una traccia Che non ha copertina Magari famosa Ecco per esempio Andiamoci a cercare di questi anni 90 Carolina Marquez Un bel sexo 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 Chi se la ricorda Una traccia a caso E saluto Carolina Bene Andiamo a questo punto A cercare come editarla Cioè come caricarci una copertina Andiamo su col tasto destro Qua dentro E facciamo editor dei tags La stessa cosa può essere fatta Se sono in versione pro o performance Anche qua Vedete Ed è la stessa cosa Mi si aprirà la traccia Qua fra tutti i tag che noi possiamo aggiungere Che abbiamo fatto anche un tutorial al riguardo Quindi andatevelo a vedere Come sistemare tutti i tag Come mettere la classificazione Come mettere il colore C'è anche la finestra della copertina Andiamo a cliccarci E vediamo che non c'è nessun tag Però Google Se avrete la connessione attiva Chiaramente Ci suggerirà la copertina Noi possiamo scorrere Fra le copertine di Google E le copertine di Discogs Che Discogs è un famoso portale Per vendere e comprare dischi Anche qua ci sono dei tutorial Su come vendere e come comprare dischi Per gli appassionati E vedete che possiamo scorrere Ma questa qua di Google Ci va bene Perché è proprio l'originale Quindi va bene la prima Una volta che io ho scelto Posso salvarla nel tag Cliccandoci E vedrete che comparirà In questo punto Salvare nel tag Ed ecco qui la copertina nuova Ritorniamo su Essential E vedete che adesso Carolina Marquez Ha la sua bella copertina originale E qua la vediamo sul vinile Fantasia Energia Sexo Sexo Pervertido a Treviso E salutiamo anche gli amici di Treviso Adesso andiamo a vedere Un'altra copertina Che ne so Se avete delle vostre produzioni O se avete delle tracce Che volete mettere insieme Mette la stessa copertina Per esempio Andiamo a vedere Su questa mia versione Se io per esempio Qua non ho niente Ho solo scritto Siberian Cat Versione 1 Intro Outro Paura Posso andare A Cliccare con l'editor dei tags Andarmi a cercare Come vedete Qualcosa su Google Che mi possa interessare Qualcosa di consono Se no Vado a selezionare Un nuovo file In questo In questo riquadro Quindi selezionare Un nuovo file Vado sul logo Di SOS4DJ Ce lo carico E chiudo tutto Posso anche fare Scrivere tag Così mi va direttamente Sul file Ecco qua Vedete che adesso Il logo di SOS4DJ Sulla traccia Che gira Idem Se metterò In versione pro Avrò la mia Il mio logo Qua Come cancellare Come fare selezioni multiple E come Andare a rimettere Un altro File Tipo Questo non mi piace Per cancellarlo Ci clicco E dico Cancellare dal tag Vedete che ritorna Siberian Cat Normalmente E rivado a selezionarmi Un altro file A questo punto Ci metto il logo Di Claude Che so io Che si scrive così Nei commenti Sempre con la O C-L-O-D Ecco Bene Scrivo nel tag Gli do ok Ed ecco qua Claude collegato qua Lo vedete nella info qui E se andiamo su Essential Eccoci qua Vedete che Comparirà come copertina Una volta Che selezionerò Questo file E anche bello Che gira Sul nostro piatto Non male Bene Ha detto questo Andiamo a vedere Come fare selezioni Multiple Tipo se io voglio Prendere queste tracce E metterci la stessa copertina L'ipotesi Sempre questa Di Claude O di SOS4DJ Poi voi Ovviamente Metterete la vostra O robe Raccattate Sul web Andiamo a fare Editor dei tags E vedete che qua Mi darà valori Multipli Quindi vuol dire Che per tutte Queste tre tracce Che io ho selezionato La extended La master La reloaded Di Capri Di questa versione Io darò La stessa copertina Vado qua Come abbiamo fatto prima Vado a vedere Se c'è qualcosa Sul web Ma ovviamente Non c'è Perché ancora Deve uscire Questa traccia E ci vado a selezionare Un nuovo file Che è ancora Il logo SOS4DJ Gli dico Ok Chiudo E adesso Vedete che Queste tre tracce Eccole qua Adesso ve le apro Una Una Due E tre Sono tutte e tre Taggate Possiamo Possiamo Tranquillamente Caricarle Una nel lettore Una in un altro E farle girare E farle girare Sui nostri lettori Questo può essere fatto Meglio ancora Se riuscite a fare Delle grafiche Personalizzate Per le vostre produzioni O anche per le vostre copertine Che ne so Tutte le tracce Degli anni 90 Volete metterle Con Un Tag 90 Tipo questo Che vi compaia Allora potete Tranquillamente Prendervi questa grafica E andarla a mettere Su valori multipli Su tutte le tracce Che avrete Negli anni 90 Ecco spiegato Come gestire Le copertine In Virtual DJ 2021 Corsi per DJ Corsi di produzione musicale Potete fare tutto Insieme a me Online Compilando il form Nella sezione Contact Qua in alto Oppure Contattandomi Alla pagina Facebook Che trovate all'interno Di ogni video Ma anche nel banner Di SOS4DJ Del canale video Mi contattate lì In privato Ovviamente Solo per chi vuol fare Corsi e lezioni Private con il sottoscritto Altrimenti Per tutto il resto Ci sono I commenti Di SOS4DJ Nelle informazioni Di ogni video Troverai Oltre alla pagina Facebook La pagina Instagram Se vuoi Puoi seguirci E la pagina Telegram La nostra community La community Di SOS4DJ Se vuoi E' gratis Puoi farne parte Il canale YouTube Mi raccomando L'iscrizione Importantissima Per noi Clicca questo rettangolo E noi saremo felici Così riusciremo A crescere Un bel po' E crescerai Anche tu Di pari passo Avendo a disposizione Un sacco di materiale Che può servire Molto Attiva la campanella Se vuoi essere informato In anteprima Di tutti i contenuti Che verranno messi Sul canale E metti un like O condividi Con i tuoi amici Tramite i social Se pensi Che questo video Possa essere loro utile Inoltre Puoi sostenerci Cliccando il tasto Sostieni SOS4DJ E non fa male Nessuno si farà male Te lo assicuro Offrendoci un caffè O tutto quello Che vuoi Se pensi Che stiamo facendo Un lavoro Per te utile E soprattutto Gratis Copertine Sono importanti Da quando siamo passate All'MP3 E col digitale È stato un po' Un problema Virtual DJ Le cura molto Questa cosa qua Ci piace Che faccia il discorso Dello scorrimento A destra E a sinistra E poi possiamo Personalizzarle Questo non è poco Perché ci dà la possibilità Di mettere tutto in ordine Si sa che quando si va A suonare A fare musica Bisogna essere Il più concentrati possibile Quindi Tanto più Sarà sistemato Tutto il nostro lavoro Tutto il nostro archivio E tanti meno problemi Avremo durante la serata Quindi È una questione di ordine Poi faremo anche un tutorial Sull'ordinamento Della musica Che lì È già un pochino Più complicato Mentalmente Fatemi sapere Se questo video vi è piaciuto Commentate qua sotto E eventualmente Iscrivetevi al canale Che per noi È un piacere Da parte di SOS4DJ E Claude Una buona giornata E vi ricordo Che la vostra soddisfazione È il nostro miglior premio Piripiripi